Musica C'è un tipo di turismo che non conosce crisi e anzi negli ultimi anni è cresciuto enormemente parliamo del turismo del vino per il quale è stato cognato un nuovo termine enoturisti che coinvolge milioni di persone crea anche nuove situazioni come Wine in Sanremo una manifestazione appena nata che per tre giorni ha coinvolto la capitale della Liguria di Ponente con oltre 130 produttori che arrivano da tutta Italia ma anche dall'estero come nel caso delle nostre spalle della Bulgaria e 600 vini in degustazione Musica Musica Uno degli appuntamenti di punta di Sanremo Wine sono le degustazioni orizzontali e verticali che si effettuano per far conoscere i prodotti principali del nostro territorio ai visitatori Pio Cesare, Franco Alesso un orizzontale che comprende quali vini? Che comprende i vini Barolo e Barbaresco nella fattispecie il nostro Barolo classico il nostro Barbaresco classico combinati e confrontati con i nostri due crue che sono rispettivamente il Barolo ornato per quanto riguarda il Barolo appunto un Barolo che nasce da una selezione di uve di Saralunga d'Alba e il Barbaresco il Bricco che invece è prodotto selezionando uve che provengono dalla Cascina e il Bricco a Treiso Musica 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 Roberto Verrando Patron della manifestazione come mai l'idea di fare una presentazione di vini qua a Sanremo? Ma l'idea è nata da un vecchio progetto che avevo nel cassetto da dieci anni e anche sulla richiesta di molte persone che frequentano il mondo del vino qua in provincia d'Imperia sia italiani che usufruitori della Costa Azzurra che mi chiedevano come mai non esiste nulla che presenti il territorio italiano a livello nazionale in questa zona io ho detto effettivamente non esiste nulla in Liguria, non esiste nulla in Piemonte, non esiste nulla in Lombardia e non esiste nulla in Val d'Aosta perché abbiamo tantissime fiere settoriali cioè dedicate a un mono vitigno o a una zona tipo il Barolo, tipo il Barbaresco ma non c'è una panoramica nazionale di quello che è la produzione del vino E i produttori come hanno reagito? Hanno reagito molto bene, molto bene sottolineando anche loro questo fatto effettivamente da questa parte nel nord-ovest d'Italia non c'è una manifestazione che presenti il panorama italiano Da questa parte soprattutto lei ha anche un'enoteca per cui ha un po' il ponso della situazione I clienti che tipi di vini vogliono? La clientela oramai diciamo che si è orientata verso un minor consumo del vino ma qualitativamente più alto quindi vogliono vini importanti, vogliono vini anche cru, vogliono vini che rappresentino molto il territorio quindi quelli che sono i vitigni magari più rari, meno conosciuti vogliono spaziare come è giusto che sia perché in Italia abbiamo una varietà di uve fantastiche ed è giusto che ogni giorno uno assaggi un vino diverso Infatti una delle iniziative che presentate durante la manifestazione è anche per valorizzarle in Rossese che è un vino locale Sì, attualmente proprio in questo momento c'è la degustazione del Rossese con la presentazione della zona azione è la prima volta che viene presentata a un pubblico di appassionati la zona azione del Rossese che come dicevano poco fa è uno dei crui più vecchi d'Italia insieme al Barolo e al Barbaresco e finalmente c'è il disciplinare che autorizza l'utilizzo della zona azione quindi della dicitura in etichetta dei vari crui di Rossese Quest'anno si festeggiano i 30 anni della Barbera Bricco dell'Uccellone e proprio per questa occasione Wine in Sanremo, Sergio Zucca, responsabile commerciale di Braida ha presentato una verticale di quattro annate storiche di questa azienda Sì, ecco, in occasione di questo anniversario presentiamo qua Wine in Sanremo l'annata 2004, l'annata 2005, la 2011 e in anteprima la 2013 Quali sono le caratteristiche principali di queste annate e soprattutto di quelle più vecchie? Ecco, allora, diciamo così, chiaramente come tutte le annate tutte molto diverse le annate più vecchie, la 2004 e la 2005, sono molto diverse tra di loro la 2004 succedeva una caldissima 2003 quindi fu una vendemia, diciamo così, un pelo più quantitativa anche un pelino più fredda per fortuna della 2003 che fu un'annata caldissima, è detta dei vini potentissimi mentre invece la 2005 fu un'annata molto qualitativa fu un'annata che partì con un anticipo di germogliamento e poi però con un agosto molto positivo e anche un settembre molto caldo detto un vino di grande qualità in diversi aspetti e anche un'annata che partì con un'annata che partì con un'annata che partì con un'annata che partì con l'annata non paura Grazie a tutti. Grazie a tutti.